Io direi che è stato forse l'artista italiano che per primo è stato conosciuto fuori Italia, soprattutto negli Stati Uniti, e che ha portato anche molti altri artisti italiani negli Stati Uniti ad avere successo. Dalla meditazione su Piero della Francesca all'informale, fino al 22 ottobre Arezzo ospita la mostra Afro negli spazi della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea. Appuntamento prestigioso da tutti i punti di vista, sia come artista ospitato, sia come percorso scientifico di questa mostra, che ci restituisce un Afro che parte dagli anni 30, giovanissimo, e che ce lo riporta dal figurativo fino all'informale. Partendo dalla dichiarazione dello stesso Afro di fronte alle opere di Piero della Francesca, l'esposizione volta ad indagare i rapporti tra Afro, la pittura classico-rinascimentale, e i grandi maestri del passato, focalizzandosi in particolar modo sulla tematica della pittura murale, che occupa una posizione privilegiata nella produzione di Afro e che costituisce, per molti aspetti, ancora una ricerca inedita sull'artista. Io sono convinto che il sentimento del colore ci sia già nel giovane Afro, quindi il suo percorso formativo non sia solo una scuola, ma sia davvero una prima fase già molto interessante e foriera degli sviluppi che poi vedremo in seguito. Tra l'altro prezioso come appuntamento perché questa mostra è stata anche l'occasione per riallestire e in parte ristrutturare la galleria comunale, che sicuramente in questa nuova disposizione riabbraccia la piazza di San Francesco, abbiamo riaperto gli affacci sulle finestre, e soprattutto poi anche la parte espositiva ha sicuramente avuto delle migliorie. Grazie.